Io sono qua prevalentemente perché ritengo che il Green Pass sia una misura che lede la libertà delle persone. Credo nella validità della scienza assolutamente, però quando si travalicano i diritti delle persone credo che sia giusto e necessario anche scendere in campo. Il Green Pass è una soluzione presa senza nessuna coerenza perché non ha niente a che fare con la pandemia e con i vaccini, nel senso che risulta esserci uno strumento non valido, non copre, è uno strumento politico. Oggi avete deciso per un presidio permanente. Su questo non posso esprimere.